Ce l'avrà sotto a tutti i piani? 74. Francesco Rosso, Milan, Sittara, Italia. E un mondo di Francio, Romani, Situ e in Giammanino. Quattro? 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 Siamo qua a tenta gara, 4 giri un po' completamente e vediamo il comando Francesco Luzzo, da Skate in Italia, seguito da Marco Anzi e da Tommaso Totti. Ed ecco che partita la battaglia, 2 giri a termine, e comunque 65, Tommaso Totti e lì, e un po' un secondo secondo attenzione, Francesco Luzzo, da Tommaso Totti e il premio Tommaso Totti a parte.